E schiera a tutti da Moxie e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Oggi parleremo di donazioni, twerkabox e OnlyFans. Come già anticipato nel twerkabox di spirale temporale, siamo finalmente riusciti ad aprire la pagina OnlyFans. Quindi, come funzionerà d'ora in avanti per i video non censurati, le donazioni eccetera eccetera? Avevamo fatto una live per parlare con voi delle nostre intenzioni, motivazioni e per sentire da voi pareri personali e suggerimenti. Ma facciamo un piccolo recap. Finora la cosa ha sempre funzionato in questo modo. Voi facevate una donazione tramite Streamlabs, ci scrivevate su Facebook in privato e noi provvedevamo a mandarvi il link del video non censurato che voi richiedevate. Questa cosa però richiedeva da parte nostra un sacco di fatica e da parte vostra un sacco di pazienza. Perché magari voi facevate la donazione, supponiamo, alle 10 del mattino. Noi stavamo lavorando e magari la vedevamo alle 8 di sera. Quindi voi eravate lì così tutta la giornata ad aspettare che noi vi rispondessimo. In più c'è stato anche qualche furbetto che ha tentato di fregarci dicendo Ah sì sì ho donato, ah sì sì ho donato. Invece poi non era vero. Oppure ah però dopo che non avevamo mandato il video. Eh però non va, però non va. Invece poi andava benissimo. Insomma cose di questo tipo. Per cui avevamo assolutamente necessità di trovare un modo più immediato per potervi dare i contenuti che voi richiedevate. Quindi abbiamo deciso di aprire una pagina OnlyFans in modo da caricare periodicamente dei contenuti e voi automaticamente abbonandovi avrete accesso a quei contenuti senza aver bisogno di un'imbeccata sempre da parte nostra per potervi mandare le cose perché veramente spesso non riusciamo a farlo. Quindi a partire dall'ultimo twerkabox pubblicato, quello di spirale temporale per l'appunto, voi non riceverete più il video in privato su Facebook dopo aver donato. Per cui smettete di chiederlo, non lo riceverete più come lui nessun altro video. D'ora in avanti verranno tutti ricaricati periodicamente su OnlyFans. Questa cosa ve l'abbiamo già anticipata sia su Facebook che su Instagram perché sì abbiamo anche aperto una pagina Instagram per cui non avete scuse. Ora dovrete per forza rimanere aggiornati su quello che facciamo. Seguiteci anche su Instagram. Ci trovate come HMC Magic Masters ma volendo qui in descrizione c'è anche il link per arrivare. E parlando di link se volete trovare la nostra pagina OnlyFans su Facebook nei post che abbiamo pubblicato gli ultimi giorni trovate il link diretto altrimenti basta cercare HMC Magic Masters su OnlyFans. Più semplice di così. Per quel che riguarda invece i contenuti di OnlyFans ricaricheremo tutti i twerkabox, non i memory lapse. Quindi i memory lapse non li troverete. Non chiedeteli in privato perché non ve li mandiamo. Chi li ha li ha, chi non li ha pazienza. Per una questione proprio di privacy dato che c'è una terza persona in quei video. E OnlyFans è un sito molto molto ligio al controllo della privacy, dei documenti. Quindi abbiamo intenzione di caricare circa due twerkabox al mese. Uno nuovo e uno vecchio e inframezzato con alcune foto che faremo apposta. E la frequenza dei twerkabox aumenterà perché comunque ne faremo anche parecchi su Arena. Comunque se dovessero esserci eccezioni ve lo diremo. Tanto ormai abbiamo tutti i social per farlo. OnlyFans come sapete è un servizio ad abbonamento. Quindi abbiamo fatto diversi pacchetti di abbonamento. Cioè mese singolo, tre mesi, sei mesi e un anno. Ovviamente dai tre, sei e i dodici mesi ci sono degli sconti applicati. Ovvio. E se invece volete continuare a donare perché magari vi va così. Potete tranquillamente farlo. Ma ovviamente come già vi ho detto poco fa. Le donazioni non implicheranno più un invio da parte nostra di contenuti. Quindi saranno donazioni nel vero senso della parola. Cose che voi volete darci. Fondi che voi volete darci. Un aiuto che volete darci. Fine a se stesso. Ovvero che comunque verrà utilizzato per aumentare qualità audio e video del canale. Per acquistare prodotti. Per quello noi usiamo le donazioni e i fondi ricavati da OnlyFans. Non peraltro. Consapevoli del fatto che non riceverete nulla in cambio. Quindi donazione pure semplice. Mi sembra di avervi detto tutto. Ma nel caso voi abbiate dei dubbi scriveteci qua sotto nei commenti. Oppure su Facebook o su Instagram. E vi risponderemo. Io vi mando un grosso bacio. Ciao dalla vostra Moxi. Alla prossima.